Oggi Shimag prosegue il suo viaggio nel mondo dello shipping sentendo la voce dei piloti del mare, una voce importante di una categoria che svolge un ruolo essenziale in delicati ingranaggi di un porto. I piloti coordinano le attività della nave e degli altri servizi tecnico-nautici, quindi ormeggiatori e rimorchiatori, assistendo il comandante durante la fase di ormeggio e disormaggio. I piloti, grazie alla loro esperienza acquisita sul campo, rappresentano anche una voce autorevole per capire quali sono i limiti e i punti di forza di un porto. Ed è da qui che voglio partire con il capopilota Cristiano Zavattin della Corporazione del Golfo di Trieste, che saluto e ringrazio per aver accettato l'intervista. Innanzitutto, Zavattin, qual è oggi lo stato di salute del Porto Giuliano? In termini di traffici, l'effetto Covid si sente ancora o si sente meno rispetto a qualche mese fa? Intanto, un buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità. C'è sempre la necessità di parlare del Porto e soprattutto del nostro Porto di Trieste. Partiamo dalla nota positiva. I segnali di ripartenza sono ottimi. Ottobre specialmente ha dimostrato l'incremento che tutti si aspettavano e doveva per forza esserci. Va detto che i mesi, soprattutto di aprile, maggio e giugno, hanno visto la contrazione dei movimenti. Per inciso, il dato che io vi porto non riguarda la merce o i prodotti. Io vi parlo da pilota degli effettivi movimenti, quindi gli arrivi, le partenze e i movimenti interno al Porto. Non entro nel merito dei traffici, ovvero delle merci, ovvero dei prodotti realmente che si sono mossi. Quello che vi posso dire dei mesi che vi dicevo prima, aprile, maggio, giugno, abbiamo avuto cifre intorno al 30-35% in calo, chiaramente. Per darvi una descrizione veloce dei segmenti, abbiamo avuto le petroliere in netto calo. I nostri terminal hanno avuto meno richiesta per ovvi motivi. Voglio dire, gli aerei non volavano, le persone non si spostavano, c'era il mondo fondamentalmente in lockdown e quindi per forza non c'era richiesta di materia prima che di petrolio o comunque di raffinati. Per quanto riguarda i traghetti, chiaramente la Turchia poi nei vari periodi non ha passato dei momenti di floridi economicamente, quindi c'è stato un po' di contrazione ma sta ripartendo alla grande, quindi abbiamo avuto un po' di calo in quei mesi ma abbiamo ripreso tutto. La sensazione è che i container si siano mantenuti costanti, le navi e anche dal punto di vista dei movimenti che si vedevano passando per il porto, sembravano più o meno aver tenuto. Va da sé, una storia a parte, è la feriera, quindi c'è stata la chiusura della feriera, quindi quello è stato un calo metabolico mi verrebbe da dire. Proviamo a guardare al futuro, Cristiano. Qual è il segmento di mercato su cui il porto di Trieste dovrebbe puntare per crescere? Il settore di mercato, allora, intanto c'è stata la fantastica notizia dell'inaugurazione della piattaforma logistica, avvenuto se non sbaglio il mese scorso, quello fornirà un grande spunto per la crescita del porto di Trieste in quanto fornirà uno snodo fondamentale che connetterà a noi l'appendice del Mediterraneo con i porti del nord Europa o quantomeno con le realtà del nord Europa. Quello che manca e a me particolarmente caro è il traffico passeggeri. È un peccato, è un peccato vedere una città come Trieste e qui io vorrei approfittare per invitarti prossimamente, non appena ci sarà l'occasione, un giro in pilotina, ti farò vedere, vi farò vedere se avrò l'occasione l'immagine di Trieste quando si arriva dal mare. È un qualcosa di veramente emozionante, sia per chi ama il tipico skyline di una città asburgica che comunque ha saputo adattarsi anche ai tempi che sono trascorsi e quindi all'epoca attuale e anche per chi ama il punto di vista naturalistico, subito dietro a Trieste è un carso fantastico e quindi veramente lascerebbe nelle persone, nei turisti che approccerebbero con le navi passeggeri veramente un bel ricordo. È un peccato che non ci sia particolare attenzione anche perché Trieste naturalmente è compatibile con il traffico passeggero delle navi moderne, ha spazi ampi di manovra, ha spazi nonostante Trieste sia famosa per la Bora, ha spazi e ormeggi compatibili con la direzione dei venti predominanti quindi della Bora, ha fondali importanti, quindi praticamente senza grossi investimenti o quantomeno investimenti adeguati per l'opportunità che ci si potrebbe aspettare sarebbero sostenibili tranquillamente. Quindi Trieste è naturalmente predisposta per il traffico passeggeri, sia dal punto di vista, chiamiamolo romantico, del passeggero, dell'interesse, sia per quanto riguarda il punto di vista portuale, a me è un po' più vicino e quindi l'aspetto tecnico di manovrabilità. C'è da dire che comunque i tempi per ragionarci sopra ci sono. 2021 è un anno difficile, 2022, voglio dire non lo dico io, basta aprire una qualsiasi rivista o comunque leggere un po' di rassegna stampa che parli di turismo e queste sono le notizie che emergono. Mi verrebbe da dire e ne approfitto questa occasione per dire che la cittadinanza prima di tutto dovrebbe credere in questo tipo di traffico. Quando parlo di cittadinanza parlo del cittadino che passeggia, quindi parlo dell'abitante di Trieste, parlo soprattutto delle istituzioni. Negli anni se ne sono sentite dire di tutti, ma da tutte le parti e di tutti i tipi di commento. Venezia, dico un esempio perché me lo posso anche permettere, perché io vengo da lì, si sta accorgendo solamente adesso che non c'è quel tipo di traffico cosa realmente porta questo segmento di turismo. Con questo non voglio dire, non voglio entrare nel merito di antipatia o simpatia di tipo politico, no, va da sé che Venezia è delicata, è una bomboniera. Tutti nel mondo, pronunciando la parola Venezia, sanno e comunque comprendono quella che può essere la sensibilità della città. Quindi non parlo di grandi navi, non parlo di niente, parlo solamente di quello che può apportare un segmento di questo tipo a una realtà cittadina. Cristiano, innanzitutto conosco molto bene Trieste e l'invito è accettato, te lo dico subito. Alla prima occasione verrò a Trieste e mi farai vedere dalla pilotina insomma come si vede la città dal mare. La domanda che mi sorge spontanea, vista anche la vicinanza tra le due città, Venezia e Trieste, sono complementari? Possono esserci due città con due porti croceristici, con due home porti croceristici? La risposta è sì. Io, purtroppo per mia natura, io sono un tecnico, tecnico dalla banchina al mare e non posso far altro che dire di sì. Trieste è in grado, e lo ripeto perché l'avevo preannunciato prima, è in grado naturalmente dal punto di vista tecnico di accettare quelle che sono le navi più grandi attualmente in linea. Il Mediterraneo in se stesso è un bacino strategico che interessa i turisti nel mondo. Trieste in particolar modo è all'apice proprio geografico di quello che potrebbe essere una linea che si sviluppa sull'Adriatico, Venezia è la bomboniera, Trieste è fantastica, Trieste potrebbe benissimo, ma attenzione non voglio entrare nel merito, ma è puramente una considerazione tecnica, potrebbe entrare nel merito di quello che è il traffico delle grandi navi, e grandi intendo dire proprio come mole, che per Trieste non avrebbero nessun tipo di problema, le strutture sono solide, ci sono e possono accogliere questo tipo di navi, sollevando Venezia, come dicevamo prima la velicata e sensibile da questo punto Venezia, da quello che potrebbe essere non tanto l'impatto visivo, ma realmente quello che potrebbe succedere, e non lo dico a livello per evitare scarabanzia o no, di quello che potrebbe portare un incidente di un simile, o comunque la parola incidente è veramente impattante, di quello che potrebbe portare a una perdita del controllo anche parziale, di una nave, di navi del genere, di quelle dimensioni. Poi possiamo parlare di quelli che potrebbero essere le dimensioni, però insomma la cronaca è piena di esempi di questo tipo. Vorrei chiedere la nostra intervista facendo una domanda sulla categoria dei piloti, più volte avete ribadito che mancano all'appello circa 40 professionisti che superano la cinquantina nei prossimi due o tre anni. Parliamo di quasi il 15% dell'intera forza lavoro. A Trieste com'è oggi la situazione? Effettivamente detto il 15% non rende l'idea, nel senso che noi siamo pochi in Italia, i piloti in Italia sono pochi, voglio dire siamo legati anche dal punto di vista dell'esistenza al numero effettivo di unità per porto a seconda del traffico che si presuppone di avere. Noi attualmente per esempio, una fra tutte, a Trieste abbiamo avuto un collega in cui in scienza la scorsa estate e con i tempi, con la modalità attualmente in esecuzione per ottenere il riappianamento dell'organico che avviene tramite concorso pubblico, noi stiamo parlando di poter riappianare appunto il numero di avere il collega pronto per la primavera estate del 2022. E quindi se ci accostiamo alla realtà dei protocolli anti-covid con l'impegno comunque da mantenere con l'utenza, noterai bene che per esempio noi siamo in 12, ne manca uno, non viene difficile un calcolo sulla copertura, sui riposi fisiologici e tutto quello che ne consegue la mancanza appunto di una persona nel nostro intento. Altro non fosse la figura che attualmente riveste il pilotaggio. Sì, noi suggeriamo la manovra al comandante della nave e lo agevoliamo cercando di fornire tutte le indicazioni, essendo un po' anche da coordinamento con gli altri servizi tecnici, ovvero riportando quelle che sono le indicazioni del comandante. È anche vero però che siamo l'occhio vigile dell'autorità marittima, della capitania di porto, siamo i primi che vanno a bordo della nave, sono i primi che grazie alla loro competenza, competenza che non è un vanto ma è un dato di fatto, grazie alla nostra formazione e agli anni di esperienza a bordo delle navi prima di diventare piloti è naturalmente nel nostro possesso. Quindi abbiamo questa percezione, la capitaneria di porto, l'autorità marittima conta su questo, conta sia dal punto di vista morale e sia dal punto di vista istituzionale, tanto da darci questo incarico di occhio vigile. Altro non fosse, siamo molto sensibili in questo periodo, siamo nel senso il mondo è molto sensibile a quelli che sono gli aspetti di security e appunto noi siamo i primi a mettere piede a bordo della nave che viene da qualsiasi destinazione a Trieste nella fattispecie. Questo per dire cosa? Per dire che il nostro impegno è veramente importante da portare avanti, importante come mole, oltre che effettivamente come importanza reale. Non c'è altro da dire, sicuramente, sicuramente, non so se mi posso permetterlo, la nostra fede piloti sta facendo di tutto e di più perché questo riappianamento si è coperto quanto prima. Colgo l'occasione per ringraziare appunto la nostra organizzazione principale. Devo essere sincero, perché lo devo, probabilmente se negli uffici ministeriali romani ci fosse un po' più di predisposizione e di sensibilità a questo tipo di problema, credo potremo ridurre di molto la tempistica per il riappianamento dei numeri. Grazie a Cristiano Zavattini per il suo contributo alle sue parole e la passione con le quali le dice. Saluto tutti i rettori di Scimag, a cui do appuntamento alla prossima videointervista. Buon vento a tutti da Vittorio Centro.